Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV quest'oggi andiamo a pronosticare dopo aver pronosticato la partita fra Torino e Inter se vi siete persi il video ragazzi andate a recuperare sul mio canale basta andare sulla playlist Trainer XL 2023-2024 troverete questo video del pronostico fra Torino e Inter se lo siete persi, io non vi dico come andate a finire ma sicuramente del clamoroso quindi andatelo a vedere e scrivete sotto che cosa ne pensate il vostro pronostico come dovete scrivere sotto nei commenti il pronostico secondo voi di Milan-Juventus big match di questa giornata che si gioca il 22 ottobre di domenica alle 20.45 ragazzi a Milano partita attesa perché è una partita importante per entrambe le squadre sia per Milan che per Juventus e io direi di iniziare a pronosticare poi nella decima giornata ragazzi andremo a pronosticare altre partite e sicuramente andiamo a pronosticare Inter-Roma e Napoli-Milan fatemi sapere ugualmente sotto nei commenti se volete un altro pronostico magari di qualche altra partita ne potremo anche portare tre la prossima settimana scrivetelo sotto nei commenti se volete un altro pronostico di un altro match e cercherò di accontentarvi ragazzi sì 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 cercherò di accontentarvi intanto andiamo a spacchettare e andiamo a fare il pronostico come al solito a sinistra in alto a sinistra le carte del Milan in alto a destra quella è la Juventus al centro tutte le altre iniziamo a spacchettare e vediamo cosa succede pacchetto numero uno Cerofolini della Fiorentina Fazzini dell'Empoli Matic che se ne è incantato della Roma Portacci di Roma Candreva abbiamo qui Correa dell'Inter e lo stemma del Genova non ho capito perché quanto ci sono gli stemmi c'è soltanto lo stem e basta anche perché non è una carta così rara poi capita che magari ne trovi due foil in un pack Zappa del Cagliari Barrov del Bologna Stella Celanoglu dell'Inter infatti qui mi sa se ce ne stanno due no non ci sono due Cragno Passaric dell'Atalanta e Cacace dell'Empoli per adesso risultato sullo 0-0 pareggio che ci potrebbe stare ragazzi fra le due squadre vediamo che succede in quest'altro pack se si sbloccherà la situazione Enrique del Sassuolo Gigi del Torino Fantastella Baldanzi dell'Empoli Svilar della Roma Mancosu del Cagliari e Calasinac dell'Atalanta quindi ragazzi fra Milan e Juventus fatemi controllare se tante volte mi sono scordato qualcosa fra Milan e Juventus risultato sullo 0-0 senza emozioni senza gol incredibile può succedere di tutto per carità può succedere di tutto comunque 0-0 sarà così? scrivetemi sotto nei commenti sono curioso di leggerli ciao a tutti grazie